La decisione del Consiglio di Stato di rigettare il ricorso del Codacons contro l'esclusione ingiusta attuata dal decreto legge del 22 aprile da parte del Governo all'intero settore della ristorazione dedicato ai matrimoni creerà al settore ormai in ginocchio enormi ripercussioni e un grave danno al tutto il settore. È ingiusto che un intero settore venga escluso dalla possibilità di riaprire solo perché si presume che svolgere le attività all'aperto anche all'aperto in locali privati renda impossibile effettuare i controlli sul rispetto delle misure di precauzioni anti-Covid previste per le altre attività di ristorazione. Il Codacons comunque continuerà a impegnarsi perché tutte le attività possano riprendere in sicurezza senza ingiuste discriminazioni.